E ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele03F e oggi ragazzi siamo suonati in un nuovo video dove vi spiegherò ragazzi, anzi dove vi dirò un nuovo codice di Roblox che hanno aggiunto da pochissimo E questo codice io so già che cosa vi darà perchè l'ho già preso, questo codice vi darà davvero un bellissimo cappello Che io vi consiglio di prendere questo codice perchè il cappello è fatto veramente bene ed è bellissimo Quindi oggi a differenza dello scorso video è uno il codice, ma perchè ragazzi questi codici qua escano veramente in poi situazioni A parte che in situazioni speciali non è che li fanno uscire così a caso di solito, magari perchè è San Valentino, perchè è Natale O perchè Roblox è arrivato tipo a un milione di persone che mettano like a un gioco Oppure è arrivato a più di 3 miliardi di visite e queste cose qua E ne hanno messo uno nuovo pochi minuti fa, io non lo so proprio quando precisamente Se magari hanno messo questa notte, non lo so, però l'ho messo, adesso vi dirò qual è Allora mettiamolo intanto, lo sto mettendo Eccolo qua e questo come vedete l'ho copiato E si chiama Fashion Fox, vedete ragazzi, Fashion Fox Ecco vi do il tempo per copiarlo, vedete Fashion Fox Fashion Fox Insomma questo codice qua E poi premete Redeem E come infatti mi dice codice già usato, perchè non lo puoi usare più di una volta il codice Perchè hai già quell'oggetto Ed ecco qua il codice che abbiamo, ovviamente poi penso lo sappiate se avete visto lo scorso video Ma tanto per essere sicuri Per andare in questo sito ragazzi dovete accedere a questo link Vedete www.roblox.com Slash promocords E ovviamente, questo non l'ho detto nemmeno nel scorso video Ma dovrete avere un account su Roblox Cioè comunque ragazzi, ovviamente io penso voi abbiate un account su Roblox Quindi come vedete io mi chiamo Gabriele03f Vedete? E ho un Robux Mamma mia, bellissimo un Robux Bene, adesso andiamo su un altro avatar di Roblox Eccolo qua E come vedete ragazzi E' questo cappellino qua Eccolo qua E' questo qua, lo vedete Lo Heigdl Heigdl Eh non sono in inglese io Heigdlikes Hood Questo cappellino qua Vedete? E' molto bellino sinceramente E' tipo Cioè Ha tipo delle orecchie Ma è fatto benissimo Io vi consiglio di prendere subito questo codice E ovviamente anche gli altri Come vedete il mio avatar invece è fatto così Eh lo so L'ho modificato proprio Poco Po' ora Cioè sì poco Un po' volevo dire pochi stondi fa Ma è invece ora Però pochi stondi fa corrisponde ora Vabbè Comunque L'ho editato ora Come vedete è uscito così Per cambiare un po' avatar Perché se voi non lo sapevate Io avevo intanto la pelle bianca E ho messo la pelle Normale Cioè pelle Rosa Poi invece poi Mi sono anche messo Perché avevo tipo una skin Un po' tipo con le mani Un po' Fatte tipo Irrealistiche Cioè Fantasy Un po' fatte Tipo Non so Tipo una Una conca Una cosa Una cosa tipo fatta Una mano messa così Insomma Ecco E E quindi adesso come vedete Ce le dà Delle mani un po' più normali Le gambe sono un pochino Un po' Grasse Cioè mi facevano più Quando erano più Grasse Perché Io sono Non sono grassi Ve lo giuro Non sono grasso io E Basta Quindi questo video Può finire qui Questo video ragazzi Spero vi sia piaciuto Ovviamente mettete Like E iscrivetevi al canale Di Paperinic08 Che non sono io Ma è il mio amico Questi sono video extra Che vi faccio io Ma molto utili E quindi Da Gabriele03F È tutto Ciao ciao In linea allo studio